Oggi è il 3 di dicembre, la giornata internazionale delle persone con disabilità. Una giornata che riguarda tutte e tutti noi e che rappresenta un'enorme scommessa, quella di ricostruire una politica che investa sul valore della promozione e del riscatto delle donne e degli uomini. Fatemi dire che ritengo doveroso iniziare da qui, perché quello della disabilità è il classico banco di prova per la buona politica. E la nostra svolta, la svolta che noi, noi tutti insieme rappresentiamo e incarniamo, deve molto più che sulle formule, sui riti di palazzo, sui dibattiti surreali, sul tasso di riformismo, estremismo dei candidati, con di concentrarsi su questo. Le condizioni di vita materiali, la centralità dei diritti sociali, umani, civili, il bene comune come orizzonte. Questa è la nostra proposta politica. Il 2 marzo del 2019, alcuni di voi se lo ricordano bene, ho visto Luca, Daniele e altre persone in sala, riempivamo le strade di questa città proprio nel cuore del successo salviniano, quando ci dicevano che non era possibile, quando quello lì sembrava imbattibile, prima di ubriacarsi al papete, dicendo, people prima le persone. Ecco, prima le persone sarà questo il filo della nostra proposta. Prima le persone per cambiare radicalmente in Lombardia. E nel ringraziare tutte e tutti, tutti voi che siete qui, tutti voi che siete in questa sala, quelli che sono nell'altra sala che abbiamo dovuto far aprire, quelli che sono andati a salutare fuori perché non sono riusciti ad entrare, quelli che ci stanno seguendo in streaming, quelli che hanno organizzato questo appuntamento, nel ringraziare Martina Riva, Pierre e tutti gli altri che sono intervenuti. Io voglio dire che questa sarà la cifra della nostra proposta. E lo dico nel ringraziare anche i tanti e i tanti che mi hanno chiesto di candidarmi a presidente della regione Lombardia. Cosa che ci tengo a dirlo, a sottolinearlo ancora una volta, mi onora e mi fa tremare i polsi. E nel ringraziare tutti i rappresentanti delle forze politiche della nostra alleanza di centrosinistra, a partire da Vinicio e da tutte le altre, tutti gli altri, della grande squadra del centrosinistra, voglio affermare che noi saremo questo. Non una coalizione litigiosa che non sa parlare al cuore della nostra comunità o la guarda dall'alto o la guarda dal buco della serratura. Non una coalizione litigiosa che si ritaglia nei cantucci confortevoli delle proprie liturgie o, lo diceva Stefania, delle proprie dinamiche spesso incomprensibili. Non le forze politiche che scambiano le elezioni regionali per una resa dei conti interna, ma una squadra tosta, unita, che mette al centro della propria proposta il benessere, l'inclusione sociale, la lotta alle diseguaglianze, a partire dalla prima, quella tra i generi, le politiche per lo sviluppo sostenibile, il valore della difesa dei beni comuni, a cominciare dall'ambiente della terra di Lombardia nella quale viviamo. Saremo questi, quelli che dopo 28 anni di governo di destra, rappresentati oggi dalla palese inadeguatezza di Attilio Fontana, si candidano a testa alta, si candidano per vincere, vincere per cambiare. Perché di cambiamento, come hanno detto tutti e tutti loro che sono intervenuti sin qui, prima di me, c'è un gigantesco bisogno. È chiaro che la sfida è difficilissima. Lo dico anche agli amici giornalisti, basta dirmi, ma perché di candidi in questa sfida difficilissima? Perché mi candido? Io mi candido per una questione semplice, che è quello che è stato raccontato sin qui. E guardate, so che continuerà il tam-tam sul fatto che in realtà non c'è partita o la corsa a farsi fare i sondaggi su misura, peraltro ne abbiamo letto alcuni surreali, ma lo dico ai nostri avversari, in particolare ai due che vengano dal centro-destra, Attilio Fontana e Letizia Moratti. Io non mi scrivo al torneo di quelli che vogliono partecipare, o peggio ancora a quello di chi ragiona sul come perdere bene. Io, noi, noi, siamo in campo per portare finalmente aria fresca e nuova, perché questa regione torni a respirare, perché c'è davvero bisogno di una svolta politica che dia alle cittadine e cittadini di Lombardia un governo regionale all'altezza delle loro necessità, dei loro interessi, dei loro bisogni, fatemelo dire anche dei loro desideri. E la nostra proposta di governo, la nostra agenda di priorità, che renderemo sempre di più evidente in queste poche settimane che ci saperanno dal voto, in questa autentica corsa contro il tempo in relazione a cui è bene fare in fretta tutto e con grande determinazione, sarà dunque un'agenda ambiziosa. E in fondo l'unica condizione che mi sono permesso di porre, a chi mi chiedeva di candidarmi, anche ad amiche e amici che sono qui in sala, anche compagni e compagni, non so se si può dire, ma insomma io lo dico, tanto oggi dico tutto. Dicevo va bene, ci sto, lo faccio con passione e riconoscenza, riconoscenza, ma a patto che quel che parleremo sarà il linguaggio di un cambiamento profondo. Se si tratta infatti di lasciare le cose così e aggiungerci una spolverata di efficientismo, di efficacia senza anima, io non sono il candidato giusto. Credo l'efficacia e l'efficienza, ma credo che debba essere al servizio dei valori e dei principi. E invece sono convinto che noi siamo la squadra migliore di tutte e l'unica effettivamente credibile per proporre scelte radicalmente diverse da quelle effettuate sin qui. Ovviamente l'esempio purtroppo più facile, immediato, è quello della sanità e della politica sanitaria. Dico purtroppo perché la situazione a cui faceva riferimento Francesca Olivi è diventata allarmante. Mi dammando davvero una cosa, me la chiedo, come proprio in Lombardia, la terra delle straordinarie eccellenze sociosanitarie, Presidente Guzzetti, peraltro Beppe come sempre mi ha fregato, volevo salutarti io, c'è Guzzetti e l'ha fatto Sala prima. Vabbè, comunque, come proprio in Lombardia, la terra delle straordinarie eccellenze sociosanitarie, la terra del welfare di mantrice ambrosiana e non solo, che da oltre cent'anni ha visto crescere esperienze di altissima qualità, di natura pubblica e privata. Ecco come mai, proprio in Lombardia, siamo arrivati sin qui. Prima delle necessarie proposte riorganizzative del settore, che facciamo, che faremo, questa domanda ce la dobbiamo fare. Perché per uscire dalla sorprendente crisi della sonità lombarda non sono più sufficienti solo grandi sforzi innovativi. Di quello ovviamente c'è bisogno, ma si deve ragionare sulle cause per ricostruire. Ovviamente, lo ripeto, lo ribadisco, lo dirò in tutte le lingue del mondo, la forza della critica non deve indulcere una presentazione macchiettistica. È chiaro che ci sono straordinarie eccellenze pubbliche, private, ci sono per fortuna e ci sono ancora. Ci sono soggetti antichi e nuovi che offrono, grazie al mondo medico, degli infermieri, degli operatori, dei tecnici, grandissima e altissima qualità. Ma non possiamo non comprendere cosa è accaduto e si è reso evidentissimo in questi anni. Io credo che si sia presa la strada di una privatizzazione nei fatti, senza governo, che alla fine ha impoverito l'offerta pubblica e debilitato la medicina territoriale, considerata essa meno remunerativa, colpendo poi in modo drammatico tutto ciò che sta a cavallo tra la sanità e il sociale. E penso, guardate a cose molto, molto concrete, perché noi assessori ai servizi sociali, noi militanti del sociale, quando parliamo di integrazione sociosanitaria, siamo pericolosissimi, anch'io cercherò di non andare avanti per dieci ore a parlarne. Però parlo di oggetti concretissimi, la neuropsichiatria infantile, i servizi riguardanti la salute mentale, tema che mi è particolarmente caro, le dipendenze, la politica sulla salute della donna con una guerra ideologica. Ecco i veri estremisti, condotta verso i consultori pubblici in questi anni, la medicina del lavoro, la prevenzione. E potrei continuare. Domandolo, domando a Fontana, ma pur a Letizia Moratti, che è corresponsabile di un sistema che non ha mai criticato da sindaco e che ha assecondato con la sua pessima e recente riforma da assessore. Domando loro una cosa, ma è giusto che un operaio, una cassiera, un impiegato, una lavoratrice autonoma, una pensionata che non ha i soldi di un presidente di regione o di un esponente della ricca aristocrazia debba fare mille sacrifici sulla propria pelle per essere visitata in tempi adeguati. E domando proprio a chi ha creato questa situazione vergognosa. Ma voi, di fronte a quello che ci hanno raccontato Sabrina Santini, Francesca, come pensate di essere credibili essendo stati parte della causa di questa palese ingiustizia sociale. Ecco perché c'è bisogno di noi. E c'è bisogno di una poderosa riforma fatta con la comunità scientifica. I medici, gli infermieri, le lavoratrici, i lavoratori del settore, gli enti locali, il mondo fondamentale del privato sociale. Una riforma coraggiosa, non calata dall'alto. Affinché, oltre a interventi immediati da fare con urgenza nei primi cento giorni, come un'azione immediata che vorrò fare da presidente per ridurre le code, entro la fine del mio, del nostro mandato, si rilanci la funzione della medicina di base e dei pediatri di libera scelta. Si sburocratizzino figure professionali tanto rilevanti, si cancelli la vergogna delle liste d'attesa, si intervenga per ridurre drasticamente i tempi d'attesa in un pronto soccorso, si restituisca forza, ambizione ai presidi sociosanitari presenti nel territorio, si permetta al privato di qualità di emergere competendo in modo trasparente, si cancelli, fatemelo dire con chiarezza, questa vergognosa e umiliante pratica della lottizzazione continua prodotta dalla piccola politica per cui ogni direttore generale di una struttura pubblica ha di fianco la sigla di un partito della destra. Pratica che ovviamente con me non sarà mai sostituita da una nostra lottizzazione uguale e contraria, ma piuttosto individuando procedure effettivamente trasparenti, soggetti terzi che le garantiscano, che mettano al centro merito, qualità, competenza e non logica spartitoria. E c'è bisogno di una svolta politica che dalla Lombardia faccia sentire molto di più la voce di chi ritiene che sulla sanità, sul welfare non si possa fare cassa. Lo dico peraltro pure a casa nostra perché purtroppo le stagioni dei tagli hanno in passato riguardato governi di varia natura, tagli peraltro riaffermati oggi dal governo Meloni attraverso la sua pessima manovra di bilancio. Tutto questo lo faremo sapendo che abbiamo un solido perimetro ideale entro cui collocarci. Ed è quello definito dalla riforma a proposito di riformismo che ha portato ad una delle pagine più belle del nostro Paese. Una riforma citata spesso all'esemplare anche in ambito internazionale. Alludo alla riforma voluta da una straordinaria donna cattolica antifascista Tina Anselmi che ha portato all'istituzione del servizio sanitario nazionale. Una poderosa riorganizzazione della sanità, la nostra, dicevo, che parta nel tempo della faticosa uscita dalla pandemia anche da buttare via l'occasione dell'istituzione delle case di comunità. Ora si è fatto tardi, non posso elencare gli esempi che mi sono portato qui per brevità, ma insomma Letizia Moratti ha inaugurato un prato un po' di settimane fa e ha detto qui c'è la casa di comunità. Fontana, ne parlavamo ieri con Samuele e altri a Varese, inaugura le targhe. Qui c'è la casa della comunità. Dimostrate di non aver capito niente. Quando uno straordinario lombardo a cui mando un grandissimo abbraccio colmo di riconoscenza, Don Virginio Colmegna ha spinto tanti di noi a ragionare assieme delle case di comunità, lo ha fatto per indurci a riflettere su come rendere i servizi alla persona di stampo sanitario, sociale, integrati. È questo di cui abbiamo bisogno, non di sceneggiate. In questo quadro ovviamente riqualificazioni delle professioni sanitarie e del sociale, transizione digitale, telemedicina, nuovi servizi territoriali devono poter essere occasioni per cambiare il futuro. E in quest'ottica si colloca il rapporto con il privato sociale, il terzo settore, quel giacimento straordinario, ne abbiamo proprio parlato a casa di Guzzetti giorni fa, da piano, di pratiche, esperienze, saper fare, quel giacimento straordinario di risposte e di interventi che tengono insieme principi e concretezza. Insomma, tutto ciò ha una bella differenza rispetto a una regione che in questi anni ha deciso di non avere una politica sociale e si è limitata a erogare risorse e mai nemmeno sufficiente e non si è dotata di piani adeguati, proprio sul terreno della disabilità, della non autosufficienza, del rilancio dell'RSA, della lotta alla violenza degli uomini sulle donne, delle politiche per l'infanzia, delle politiche pubbliche per promuovere l'assistenza familiare, della lotta alle povertà, delle politiche per l'integrazione. Del resto basta vedere quali sono stati i protagonisti politici assurdi messi a presidio di questi temi strategici. Andatevi a vedere la lista degli assessori e questa parla da sola. Così facendo, con il suo calcolato immobilismo, Regione Lombardia ha finito per scaricare sui comuni o magari addirittura sugli sportelli della Caritas la pressione della domanda sociale e noi saremo altro, saremo quelli che non si gireranno dall'altra parte di fronte al bisogno di riscatto e davanti alla sofferenza. Ma dico di più, saremo quelli che credono che l'innovazione del welfare sia un'enorme opportunità, una grandissima occasione. Parleremo noi allora il linguaggio del sostegno alla genitorialità, della progettazione avanzata di politiche per l'infanzia, dell'aiuto ai comuni per far vivere bene le bambine e i bambini delle nostre città. Saremo quelli della cultura, della conciliazione dei tempi di vita tra cura e lavoro, questione che non riguarda e non può certamente riguardare solo le donne, le madri, ma che deve riguardare sempre di più anche i padri. Tutti i temi, questi, che fanno parte, diciamolo con orgoglio, in un periodo in cui ciascuno si sveglia, lo dico a tanti del mio partito, degli altri del centro-sinistra e ci dà lezioni, tutto questo fa parte della nostra cultura di fondo. E noi dobbiamo esserne orgogliosi e la dobbiamo mettere con orgoglio a disposizione del cambiamento in regione Lombardia. Il contrario di quello che è avvenuto in una regione nella quale una famiglia, che ha un bimbo piccolo, che magari da mattina a sera reagisce in modo inatteso, inconsueto, complicato, che porta con sé i sogni, i segni tumultuosi di una fragilità inafferrabile, destabilizzante, è costretta quella famiglia ad attendere anche 18 mesi per ottenere una visita in un reparto di neuropsichiatria infantile. E cambieranno pure le cose su altri terreni complicati, delicati, strategici. Alludo alla questione della casa. Beppe Sala ha già detto tutto prima. Basta case vuote, dico. Basta case vuote. All'Er Milano, ne abbiamo parlato tante volte con Pier, va rivoltato come un calzino, ha perfettamente ragione lui. Bisogna proprio ripensare poi una politica per far sì che vi sia un soggetto in grado di gestire concretamente bene le cose. Grazie a Casa Grande ce l'ha spiegato molto molto bene, l'ha detto in maniera totale, efficace, efficienza nella manutenzione, mix sociale, relazione con i cittadini, ricostruzione di presidi di legalità. E a tale proposito fatemi aggiungere che essendoci vari spazi vuoti ai piani terra inutilizzati, lì andranno sempre di più portati i presidi infermieristici, attività ricreative, laboratori sociali, luoghi dell'artigianato e per le attività di impresa. E fatemi anche dire, Stefania, non eravamo d'accordo, non ci siamo messi d'accordo, ma che la mia intenzione, però ce l'ho scritto prima, da Presidente sarà quella di mettere proprio in uno di quegli spazi oggi vuoti, come già mi è capitato da assessore al Corvetto, in uno di quegli spazi vuoti, magari in un quartiere difficile, popolare, milanese, al piano terra, per accorciare la distanza tra istituzione regionale e cittadini, l'ufficio del Presidente di Regione Lombardia. Perché noi dobbiamo stare nel mezzo e ricostruire prossimità. Quando, ne ho parlato anche ieri sera a Varese, a una bellissima iniziativa, la destra ci ha abituato tutti, devo dire purtroppo con efficacia, che l'istituzione regionale può legittimamente essere la più lontana al mondo. Ha lavorato su quella distanza rendendosi comunente, se escludiamo tutta la gigantesca, contraddittoria questione della sanità, che palesemente spesso non fa. Invece io penso che noi dobbiamo fare della Regione il laboratorio della prossimità. Ed è questa la giusta idea di autonomia. Altro che, come vuole Calderoli, regionalizzare la scuola, anzi lo dico da padre, giù le mani dalla scuola pubblica italiana. No, l'autonomia che abbiamo in mente noi è quella di un sistema che vede la Regione al fianco dei comuni, delle nostre comunità, della realtà metropolitana e ancora di più, dei comuni più piccoli, delle comunità montane, dei luoghi dove il disservizio di un autobus o di un anagrafe che chiude non fa nemmeno più notizia. Ecco perché sto incontrando molti sindaci in questi giorni, sono andato ovviamente a Lodi dal mio amico Furegato, da Gattinoni, dai due Galimberti, torno da Gori oggi, domani vado dal grande Miglio del Bono a Brescia. Tutto ciò non è solo una questione di consenso, anche quello, e serve, ma è una questione di senso. Qui io vedo tantissime amministratrici, amministratori locali. Quello che vi voglio dire è che la nostra idea di Regione sarà quella dove voi non dovete più fare anticamera per incontrare un suo rappresentante, ma è quella al servizio delle vostre comunità, perché noi prima vinciamo e poi siamo chiamati a riscrivere una nuova credibilità delle istituzioni, che poi vuol dire essere parte della parte migliore della storia europea. Lombardia, Regione d'Europa, sono poche parole che voglio pronunciare con forza, io credo che debba dire questo. E so di parlare una lingua perfetta per Brando, Irene, Patrizia, Giuliano e gli altri colleghi con cui ho condiviso la bellissima esperienza del Parlamento europeo. Noi abbiamo bisogno di una Lombardia che si dota di una sua politica in Europa. Non prendetemi per matto. Andate a vedere cosa fanno i bavaresi, ad esempio. Abbiamo bisogno di un lobbismo intelligente che curi i nostri interessi e non ci faccia perdere alcune grandi occasioni. Tra di esse, a proposito di snodo tra Europa e la nostra terra, dove sei, Irene, ecco, lì, c'è la questione evidentemente del PNRR. PNRR, in questi giorni sto facendo un esercizio avvilente, vado un po' da quelli della regione e gli chiedo, ma voi cosa state facendo sul PNRR? E vedo dei volti pieni di smarrimento. Cioè non ce ne ha, mi guardano come se parlassi di un segreto particolare. Ma questo la dice lunga sulla capacità di essere appunto efficienti in relazione alle politiche di sviluppo della nostra terra e potremmo parlare dell'uso complessivo di fondi, bandi e su questo io vorrò un super assessore che stia lì con i piedi ben piantati tra l'Europa e la Lombardia. Però ovviamente poi c'è un'altra spiegazione, perché a volte è proprio la politica che ci dice dove vanno le cose. Voi, lo dico al governo regionale uscente, potete fare tutti gli sforzi che volete, ma voi siete sempre comunque quelli di Matteo Salvini che con Savoini piazzato nelle istituzioni seminascosto, nelle istituzioni lombarde, tenta di fare affari con Putin. Noi siamo quelli della lotta di David Sassoli e del governo Conte II per ottenere le risorse che vanno impiegate proprio per sostenere le nostre comunità. Perché le nostre comunità hanno bisogno di sostegno, opportunità per buone traiettorie di sviluppo, sviluppo intelligente, sostenibile. In questa cornice si collocano alcuni grandi interventi di cui c'è bisogno. Uno di essi è certamente la necessità di realizzare una nuova legge regionale urbanistica del territorio, pensando, come si legge anche nei documenti che le opposizioni presenti in Consiglio regionale unitariamente hanno elaborato in questi mesi ad un nuovo strumento capace di integrare nella pianificazione territoriale i temi del contenimento del consumo di suolo, di tutela delle aree verdi, di pianificazione di area vasta, di riforestazione, di contrasto agli effetti della crisi climatica e così via, investendo sul valore della rigenerazione urbana, del riuso, del recupero. Una moderna politica pubblica, peraltro, lo sottolineo, pubblica perché il mercato da solo non fornisce le risposte adeguate dell'abitare si colloca in questa cornice. E sempre con questo approccio, di chissà che c'è moltissimo da fare, va affrontato il capitolo strategico delle infrastrutture, dei trasporti, della mobilità. Ovviamente tutto ciò è una chiave determinante per intervenire sulla qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle imprese. Ed è per questo che è paradossale, dopo tanta retorica sui premati della Lombardia, che sia oggi uno dei terreni, questo, infrastrutture, mobilità, su cui si è assistito sempre di più alla fuga dalla propria responsabilità nell'azione di governo. E in maniera ancora più evidente mi riferisco al sistema regionale dei trasporti, innanzitutto della rete aeroportuale, altro oggetto dimenticato, ma poi al sistema regionale dei trasporti, che oggi appare come progressivamente depauperato, perde punti rispetto perfino a quello nazionale. Le condizioni in diverse tratte con cui devono fare i conti pendolari, sono sinceramente inaccettabili, con ritardi di servizi non più tollerabili. È chiaro che si deve intervenire con nettezza dentro Trenord e faremo le scelte migliori sul piano gestionale, ma questo non basta, non basterebbe. Sull'intero gigantesco capitolo, posto che vi è bisogno di interventi poderosi, incrociando fondi di natura regionale, nazionale, europeo, il salto di qualità di cui c'è bisogno è enorme. Abbiamo bisogno di una regione che si collochi a sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico, della mobilità sostenibile, promuovendo un fondo a sostegno degli enti locali, abbonamenti integrati, politiche tarifarie differenziate per studenti, lavoratori, disoccupati, anziani, famiglie numerose. Devo dire che mi interessa molto, l'ha proposto Micheli il sindaco di Segrate, mi interessa molto approfondire l'esperienza di Berlino, ne parleremo nelle prossime settimane. Poi abbiamo bisogno di investimenti a sostegno della multimodalità e politiche che non lasciano solo i comuni, scaricando vergognosamente su di essi la questione dell'aumento del costo del biglietto. E poi dobbiamo investire sul rinnovamento del parco mezzi circolanti, ovviamente dando priorità all'elettrico, sulla ciclabilità, affiancando anche in questi casi i comuni dal governo regionale. E ancora sulla gestione del servizio ferroviario regionale servono interventi per ottenere un ammodernamento del materiale rotabile, affrontando poi anche i temi della qualità del servizio. Inoltre fatemelo dire in maniera molto netta, va affrontata pure la questione della sicurezza. Apro e chiudo una parentesi. In questi anni la Regione ci ha abituato sulla sicurezza alla solita retorica della destra. Chiacchiere molte, zero fatti, sul tema di cui in materia di sicurezza la Regione si deve prioritariamente occupare. Cioè ciò che riguarda i treni, le stazioni, in alcune tratte e in alcuni orari. Noi non saremo quelli che si girano dall'altra parte. E anche in questi casi voglio una Regione che non sta ferma, che prende di petto la questione della qualità dell'aria. Nella Regione più inquinata non d'Italia, d'Europa. Non d'Italia, d'Europa. Come quella ancora più ampia degli effetti della crisi climatica. Fontana su queste questioni essenziali è una sorta di piccolo bolsonaro, un negazionista. Io non potrei per principi, valori, devo dire anche per ragioni familiari, perché ho una radicale ambientalista in casa, diciamo, che è Caterina. Ma al di là di questo aspetto, noi siamo di fronte davvero alla necessità di cambiare radicalmente. Volete un esempio? Oltre agli interventi sulla mobilità, ne abbiamo proprio parlato assieme. Attuiamo un piano emergenziale per la riqualificazione degli edifici pubblici a partire proprio dalle case popolari. Una misura efficace per abbassare emissioni, creare nuovi posti di lavoro, abbassare i costi energetici. Attraverso scelte che appartengono alla rivoluzione ambientale, che dobbiamo proporre e che tenga insieme giustizia sociale e giustizia climatica. Attraverso scelte di questo genere, poi, non facciamo solo, tra virgolette, una straordinaria azione di tutela e difesa dei nostri beni, del nostro territorio, della nostra terra. Non facciamo solo questo. Interveniamo perché la stessa rivoluzione ambientale sia fatta insieme ai lavoratori, ai sindacati, alle imprese, al mondo agricolo, cittadini milanesi, al mondo agricolo, che è un attore essenziale e non può subire le scelte. Le comunità energetiche, le società civili, i comuni, questi devono essere i grandi attori di un piano che la faccia finita con il negazionismo di Regione Lombardia. Una rivoluzione ambientale totalmente incompatibile, lo dico perché ripareremo i danni di questi giorni, con il tentativo perpetuato proprio recentemente di allungare sul parco agricolo sud le mani sporche di cemento di chi oggi gestisce la Regione. Una rivoluzione ambientale è fatta di difesa dei beni della terra e del valore dell'acqua, sapendo che tutto questo, sto controllando evidentemente l'orario, sapendo che tutto questo significa anche guardare avanti sul piano occupazionale. Ci tengo tantissimo, dedicatemi ancora qualche minuto d'attenzione su questo aspetto. Nel cuore della campagna elettorale noi presenteremo una sfida, il più grande piano per creare lavoro verde mai fatto in Lombardia e in Italia, anche cogliendo le opportunità che arrivano dal Green Deal europeo. Macron sceglie di insistere sull'auto elettrica a un piano nel cassetto da 600.000 posti di lavoro. Non mi sono montato la testa da candidato, non penso di essere Macron, la Lombardia non è la Francia, ma non si può nemmeno non pensare che questo non sia un enorme tema di politica industriale intelligente da realizzare nelle nostre terre. E Lombardia vuol dire voglia di fare imprese. Il sistema economico lombardo è costituito da 820.000 imprese con una grande preponderanza di imprese individuali. Cosa propone loro l'istituzione regionale? Io confesso di non averlo capito. accompagnamento all'internazionalizzazione, lotta all'eccessiva burocrazia, difficoltà nell'accesso al credito, sostegno alle imprese innovative, problemi aperti sul piano della digitalizzazione sia di una parte delle imprese che della pubblica amministrazione. La sfida su questo sarà davvero ambiziosa perché noi pensiamo una regione che sia in grado di offrire al sostegno al mondo produttivo lombardo promuovendo il più possibile un modello basato sulla responsabilità sociale di presa un pezzo del proprio protagonismo. E sulla cultura dell'innovazione crediamo di dover insistere, immaginando una struttura ad hoc per semplificare ad esempio gli addempimenti burocratici richieste alle stesse imprese o facilitare l'accesso alle richieste di finanziamento, tema enorme che c'è nel mondo, mi sto occupando in queste settimane della questione della due diligence a livello europeo e lì c'hai proprio il cuore di come aiuti le imprese a stare nel mondo con la cultura della sostenibilità e attraverso la relazione attiva con la società civile e le comunità. E pensiamo poi a politiche del lavoro per il lavoro. Io credo che abbiamo su questo un ottimo esempio da cui attingere, il patto realizzato da Regione Emilia Romagna. Esso si fonda sul valore della concertazione, sul coinvolgimento delle parti sociali e definisce una buona cornice di riferimento. Le politiche attive sono una straordinaria opportunità da cogliere e vogliono dire tantissime cose, rapporto con l'Europa, con il sistema universitario, formazione permanente, il ruolo degli ITS, i centri per l'impiego, tutte questioni che affronteremo e vogliono dire anche, scusate se su questo un po' estremista lo sono, questione salariale. Io non ritengo accettabile che le istituzioni incoraggino il lavoro povero e questo deve riguardare anche Regione Lombardia che non può determinare appalti con paghe da fame. Basta, noi non tollereremo più questo tipo di politiche e la cambieremo. E politiche del lavoro significa pur affrontare parità salariale tra donne e uomini, piani per il sostegno all'occupazione femminile, sostegno le cooperative di tipo B per l'inserimento dei fragili e parole che non si possono pronunciare solo nei giorni dei morti. Sicurezza sul lavoro. Vado a concludere, evidentemente sapendo che dovrei affrontare tante altre cose e noi abbiamo davanti una campagna elettorale nella quale saremo in tanti, perché questa è una grande squadra collettiva e la faremo attraverso il tam tam sociale, la mobilitazione nei territori soprattutto in quelli più lontani che ci appaiono come ostili, a volte incomprensibili, dove c'è gente che non vede l'ora invece di essere compresa, di entrare in relazione, di costruire legami. Aspettatevi dunque tappe di lavoro, confronto comune per affinare programma, parole d'ordine, progetti. E state lontani dai luoghi che vi rassicurano. Le prossime settimane non sono quelle dei dibattiti nei circoli a caccia di rassicurazione tra di noi. Le prossime settimane sono quelle, e Andrea lo spiegava molto molto bene, nel quale incrociare composizione sociale, domanda, inquietudine lombarda, per dirla con il mio amico Aldo Bonomi, con il nostro saper fare. Aspettatevi che discuteremo di questo, come di altro, come ad esempio affronteremo il tema su cui confesso grande preoccupazione riguardante lo stato effettivo delle tappe e degli interventi, anche qui a proposito degli efficienti, connessi alla realizzazione delle Olimpiadi. Un appuntamento che non possiamo permetterci di perdere o di vedere gestito male. Aspettatevi dunque settimane di campagne elettorali nelle quali presenteremo proposte su tanti aspetti che ci riguardano da vicino, mostrando il massimo della voglia di cambiamento e di futuro. Quella di chi pensa che ci sia bisogno di una regione che sa garantire e promuovere la cultura dei diritti e che smetta di far finta di niente di fronte alla pratica delle discriminazioni. Cultura dei diritti, sì, che vuol dire affiancare i comuni che si attivano contro l'omotransfobia e che promuovono progetti come quello milanese delle case arcobalene, che vuol dire non aver paura di portare i propri simboli istituzionali, la propria voce, al Pride, che vuol dire ritenere che vi sia un grande tema relativo ai diritti delle donne di scegliere rispetto al proprio corpo che nessuno può mettere in discussione, che vuol dire piena applicazione della legge 194 senza se e senza ma, che vuol dire diritto alla piena cittadinanza in un Paese vergognosamente incapace di promuovere lo iuscole, che vuol dire diritto a vivere liberi davvero in un territorio che continua a far finta di non aver l'andrangheta in casa e dove noi invece realizzeremo una politica di lotta alle mafie fondato su cultura della legalità, gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sostegno al fondo antiusura, cultura dei diritti che vuol dire diritto alla bellezza, diritto alla bellezza, che poi è una pratica di governo se diventa politica di sviluppo del turismo, alto che santa anche, fondate sulla qualità dell'offerta culturale e creativa, valorizzazione dei borghi, sostegno all'arte, allo spettacolo, al teatro, alla letteratura, al teatro, alla letteratura, e fatemelo dire da rappresentante della categoria, al cinema, alla produzione seriale in una regione dove hanno usato, non so se Cristiana e Lionello ci siete da qualche parte, la Film Commission per fare affari e non per sostenere nuovi talenti, con l'assurdità che un film su Milano lo vai a girare a Torino, io voglio riportare tanta gente a casa ma voglio anche riportare il cinema a Milano e in Lombardia, diritto alla bellezza, che ciò che anima l'azione di Mattia Palazzi a Mantua, la scommessa di Bergamo e Brescia, che insieme, che insieme, l'avevamo detto all'iniziativa a Monza in campagna elettorale ed è molto giusto, diventano insieme, insieme Bergamo e Brescia, capitale della cultura del 2023. E grazie ai nostri amministratori locali, bravissimi, grazie ai nostri due grandi sindaci, offrono un modello radicalmente diverso da quella di una rappresentazione piccina delle bellezze di Lombardia, ma amici e compagni della sinistra, noi siamo quelli che portano con orgoglio il linguaggio della passione per la bellezza della Lombardia, lo dico ai cittadini milanesi, siamo anche un po' meno noi provinciali nel non andare a vedere la bellezza straordinaria dei nostri territori. Cultura dei diritti, che vuol dire diritto ad essere giovani. L'intervento di Valentina Ferspati, io credo che fosse su questo terreno essenziale, una politica fondata su diritto allo studio, lotta alla precarietà, opportunità offerta per andare all'estero e non a proposito di opportunità europee e non per andare all'estero per costrizione, ma andare per crescere nella dimensione internazionale e poi restituire qualcosa quando torni a casa. Cultura dei diritti, che vuol dire diritto alla memoria antifascista, come già spesso insegnato l'elefiano. Oppure, ed è quello che io propongo agli altri candidati Presidente, chiunque di noi vinca si impegni a coltivare la memoria di una grande persona, di un punto di riferimento per tanti di noi appassionati dei destini del sud del mondo, l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo, in circostanze ancora tutta da chiarire, un grande cittadino lombardo e al papà e alla mamma di Luca, fatemi mandare da qui ancora una volta un grande, grande abbraccio. Ovviamente la sfida è dura, lo sappiamo, ma come ha scritto in questi giorni, non so se l'ho vista, una nostra attivista di quelle più toste, Laura Di Donato su Facebook, noi dobbiamo creare il consenso, non inseguirlo, anche perché a furia di inseguirlo ti smarrisci, non sei credibile e per essere credibile, dunque creduto, dovremo fare una campagna elettorale col sorriso sulle labbra, appassionata, alla ricerca delle voci più inascoltate, delle idee più innovative. Cammineremo insieme, consumandoci suole nelle terre lombarde, ben oltre le nostre comfort zone della politica, perché come dice Stefania sempre, la buona politica non si fa in dad, si fa costruendo legame, relazione, anche quando chi incontri è diffidente o perfino ostile. Andiamo nelle tante Lombardie, per dirla con Riccardo, Riccardo Sarfatti, una persona che a casa ci manca tantissimo. E con questo atteggiamento fermo, rispettoso, rinnova al Presidente uscente Fontana un invito, scelga il luogo che desidera, il comune che preferisce, perfino il circolo della Lega, potrei arrivare a tanto che in quel marasma loro predilige, o la tv, la radio, lo sfida un confronto pubblico sulle idee. Non abbia paura, non si sottragga. Andiamo avanti allora a testa alta. Noi siamo quelli che sono qui per dire che vogliono portare il cambiamento. Moratti e Fontana, le loro liti sono il passato. Noi siamo il futuro. Siamo qui con un'alleanza di forze politiche, movimenti civici, orgogliosa, un'alleanza che può arricchirsi ancora di più, per diventare ancora più determinata, come ci sollecitano tante associazioni, dall'Arce a Medicina Democratica in questi giorni a fare, un'alleanza che è in campo, che è in campo per cambiare e vincere. Dunque, Lombarde e Lombardi, mettiamoci in cammino. Grazie. 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 Grazie.